Musica Povere bestie! Le foto che documentano i maltrattamenti animali nelle fattorie svizzere. Vedi il maiale che è completamente immerso con le zampe nel suo letame, nella sua urina. Quando l'allevamento è bestiale. Telecamere in fattoria. Fatti chiari, visita sorpresa, le aziende agricole della Svizzera italiana. Quella capra non riesce ad alzarsi. Vediamo bene le unghie che sono lunghe, lunghe, lunghe e non riesce a camminare. Ma i controlli dove sono? C'è bio e bio. Dal piccolo agricoltore alla grande industria, dalla verdura di stagione ai prodotti ultraprocessati. L'etichetta è sempre quella. Ma la qualità? Buonasera, rieccoci qui a Patti Chiari. Avete sentito, apriamo con un tema che davvero ci tocca a tutti, tocca a tutti i consumatori. Anche se va detto che spesso viene un po' poco considerato. Di fatto quando compriamo della carne di qualsiasi tipo, dei formaggi, insomma non teniamo tanto conto di un aspetto. Sappiamo benissimo che c'è il lavoro anche pesante dei contadini, però a garantire il reddito dei contadini ci sono degli animali. E ci sono anche delle regole, delle regole che stabiliscono come devono essere allevati per garantire il loro benessere. Allora, sono aspetti che noi consumatori spesso non teniamo così presenti, ma i contadini invece lo sanno benissimo quello che devono fare. E questa sera con noi in studio c'è il presidente dell'Unione Contadini Ticinese Omar Pedrini. Buonasera! Prego, prego, di qui. Salve, salve, prego, prego. Allora, signor Pedrini, abbiamo visto un po' che si tratta di un tema nel realizzare il servizio. Ci siamo resi conto che è un tema che insomma non piace tanto ai contadini, il fatto di andare a mettere il naso un po' nelle loro fattorie, andare a guardare come vengono allevati gli animali. Ecco, è come un fastidio abbiamo notato. È così, non è così? Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Anzi, le nostre fattorie sono aperte. Il 99% delle aziende in Ticino non sono neanche chiuse, recintate, di libero accesso a tutti. È sempre un po' un fastidio quando si vuole venire a cercare a tutti i costi lo scoop. Cioè, c'è già subito un attacco a noi, va bene. Lei attacca a noi, noi attacchiamo a lei. Penso che sia un po' così il gioco, se non mi sbaglio. Noi, le nostre stalle sono aperte, come ho potuto dimostrare al suo collega quando è venuto a presentarmi i filmati. Ha detto, voilà, le porte sono aperte. La sua è aperta. Ma il 99% delle aziende in Ticino sono aperte. La maggior parte degli animali sono anche all'esterno, dunque si vedono dalle strade, si vedono facilmente. Certo. Dunque, no, non nascondiamo niente. Non nascondete niente, però forse il fastidio invece quello l'abbiamo notato noi lavorando sul terreno, andando a realizzare il filmato. Non so, lo chiediamo subito al collega che è andato sul terreno e che ha realizzato il servizio, Igor Steli, insieme a Olmo Ilvernizzi. Ma sì, diciamo che l'impressione che ho avuto anch'io è che comunque ai contadini non piacciono molto questo genere di intrusioni. Le vedono un po' come una sorta di interferenza nel loro lavoro quotidiano. e quindi ecco, sono cose di cui noi fondamentalmente dovremmo stare un po' alla larga. Mi è perso di capire in alcuni casi. Lui non condivide. Ma mi sembra che in tutti i servizi che fate, non mi sembra che negli altri ambienti economici siano lì con gli striccioni e i palloncini a dare il bambino quando arrivate. Beh, infatti anche in questo caso non ci hanno accolto a braccia aperte, anzi devo dire che in alcuni casi è volata anche qualche parola grossa. Succede, dice lei. Succede, poi succede. Poi tra i contadini magari c'è un po' di reazione. Ma ripeto, sono convinto che le stesse cose sono successe negli altri settori. Noi non abbiamo niente da nascondere. Farsi venire a spulciare a volte non fa piacere, è vero. Non mi risulta però che i controllori ufficiali che arrivano anche in parte a sorpresa vengano presi a bastonate, ecco. Beh no, i controllori ufficiali no. Noi qualche rischio l'abbiamo corso. Lui è vero dire il vero, però va bene. Noi abbiamo i nostri rischi. Qualche momento non proprio simpatico. Ognuno ha i suoi rischi. Noi comunque riteniamo che sia un tema di interesse pubblico ed è proprio per questo che ce ne occupiamo e chiediamo anche a voi di partecipare alla nostra puntata. Scriveteci, telefonateci, raccontateci le vostre esperienze e soprattutto fate tutte le domande ai nostri ospiti. Esatto perché ne abbiamo altri e arriveranno altri ospiti qui in studio. Allora le facciamo vedere il primo filmato che abbiamo realizzato. Poi le mostriamo quello in cui abbiamo potuto entrare nelle fattorie. Ci siamo presentati all'improvviso nelle fattorie della Svizzera italiana. Lo vediamo in un secondo momento. Però il primo filmato che le mostriamo racconta un po' la situazione nelle varie fattorie della Svizzera, anche della Svizzera italiana e del Ticino. Evidentemente ci sono dei documenti, dei dati, delle foto che raccontano cosa può nascondersi a volte dietro la tanto apprezzata carne svizzera. Una carne di grande qualità ma anche di prodotti come i formaggi per esempio. Quindi ve lo raccontiamo con questo primo servizio e poi vi portiamo nelle fattorie della Svizzera italiana. Il servizio è di Igor Steli e Olmo Invernizzi. Si è aperto questa mattina a Darbon nel canton Turgovia il processo a un agricoltore di 54 anni accusato di maltrattamento di animali e numerosi altri reati. L'avevano soprannominata la fattoria degli orrori. Orrori costati al proprietario una prima condanna a otto mesi sospesi. Tra un ricorso e l'altro però il caso non si è ancora chiuso. Un anno dopo torniamo sul posto. Eccola qui la famosa fattoria degli orrori. Qui dentro sette anni fa vennero scoperti cavalli, maiali e pecore maltrattati e lasciati morire di fame. Ma che fine avrà fatto il proprietario? Andiamo a cercarlo. Oggi l'azienda sembra una discarica a cielo aperto ed è semi abbandonata. All'improvviso però sbuca un operaio. Il proprietario non c'è e voi non potete stare qui. Il suo numero non ve lo do. Andatevene o chiamo la polizia. Dopo alcune ricerche scopriamo dove abita. Andiamo un po'. Ah guarda. È proprio lui. Del proprietario però nessuna traccia. Poi un numero di telefono su questa roulotte in vendita attira la nostra attenzione. E stavolta a risponderci è proprio lui. Il sequestro degli animali era irregolare. Non ci sono stati maltrattamenti. L'azienda è sempre stata controllata ed era tutto a posto. Solo che da me le autorità pretendevano molto di più. L'accusa aveva chiesto sei anni e mezzo ma per ora mi hanno condannato solo a otto mesi con la condizionale. Significa che non c'era molta carne al fuoco. Una vicenda che sette anni fa aveva scosso l'opinione pubblica. Eppure i casi in cui la salute e il benessere degli animali vengono presi sotto gamba non sono così rari. Anche nella Svizzera italiana. Promesso. L'ultimo caso risale ad alcuni anni fa quando a Biasca venne chiusa questa azienda agricola. Se vediamo il letame gettato davanti alla sua stalla è veramente uno sfacelo con degli animali liberi in mezzo ai rottami con cianfrusaglie dappertutto. È una persona del mestiere, quindi formata che ha addirittura una struttura nuova, piuttosto grossa. Qui veramente c'è proprio l'incapacità di gestire una struttura agricola. Negli ultimi anni i volontari della protezione animali di Bellinzona hanno scattato centinaia di fotosimili. Ma quasi mai si è giunti alla chiusura delle aziende o al sequestro del bestiame. Qui abbiamo ricevuto la segnalazione di 4-5 asini in un campo sul piano di Magadino sotto l'acqua senza nessun tipo di riparo. Gli asini sono tenuti in questo prato dove non è nemmeno presente una mangiatoia. Il loro detentore ha portato delle rotoballa ancora avvolte nella plastica obbligando gli animali a mangiare strappare praticamente il fieno direttamente dalla rotoballa rischiando anche che l'animale ingerendo il fieno ingerisca anche dei pezzi di plastica. Questo è un caso che è stato segnalato all'ufficio del veterinario cantonale. Purtroppo è abbastanza recidivo e ciclica la situazione perché poi anche qui gli animali spariscono ne tornano di quelli nuovi e la situazione va avanti e si trascina per anni. Altro allevamento altri animali e altri maltrattamenti. Vedi il maiale che è completamente immerso con le zampe nel suo letame nella sua urina. Poi erano tutti animali senza marche auricolari quindi non c'era la tracciabilità della carne e questo qui vendeva i salami vendeva di tutto ne faceva di tutti i colori. La recinzione è fatta con tutti i ferraci e tutto quello che si trova in giro in discarica quindi non c'è un minimo di tenuta sana degli animali anche qui gli asini che escono dalla stalla hanno veramente pochissimo spazio dove muoversi e camminano nei loro escrementi. Con degli zoccoli di questo tipo l'animale non ha una posizione corretta e ha delle sofferenze enormi sulle articolazioni. E spesso i proprietari se la cavano a buon mercato. Sanzioni di poche centinaia di franchi sono irrisorie. Certi contadini ti deridono quasi dicendo beh per quei poche centinaia di franchi le pago poi coi contributi che ricevo e questo è estremamente demotivante per noi volontari. La pensano così anche a Zurigo in una nota fondazione che da anni si batte per i diritti degli animali. Le multe sono spesso simboliche e non sono assolutamente proporzionali rispetto alle sofferenze dell'animale. In Ticino abbiamo diversi esempi. Due anni fa abbiamo avuto il caso di un montone che aveva delle ferite profonde che non sono state curate e l'animale ha subito un'eutanasia dopo aver patito le pene dell'inferno. L'allevatore se l'è cavata con una multa di 120 franchi il che non è soltanto simbolico ma anche ridicolo. da 40 anni l'associazione cataloga le denunce penali provenienti da tutta la Svizzera. Risultato in Ticino si registrano solo 0,48 casi di maltrattamento ogni 10.000 abitanti. Cinque volte in meno rispetto al resto della Svizzera. Un dato lusinghiero a prima vista. si potrebbe pensare che in Ticino gli animali vivano in una sorta di paradiso ma non è assolutamente così. La realtà è che le autorità controllano molto meno e non prendono così sul serio come fanno altri cantoni le infrazioni sui maltrattamenti degli animali. Così spesso i responsabili rimangono impuniti. Arau sede della protezione svizzera degli animali. Da anni l'associazione esegue controlli rigorosamente a sorpresa nelle fattorie che vendono prodotti con marchi di qualità. eppure anche in questi casi la situazione non è sempre idilliaca. Lo dimostrano le foto scattate dagli ispettori negli ultimi mesi. Secondo lei le autorità potrebbero fare di più? Quello che si può dire è che probabilmente non fanno abbastanza. Ci rendiamo conto che hanno un compito impegnativo e che spesso mancano le risorse e secondo noi sarebbe importante che queste risorse aumentassero ma nello stesso tempo notiamo importanti differenze tra i cantoni. Alcuni hanno investito parecchio negli ultimi anni e fanno controlli severi e adeguati mentre altri hanno probabilmente priorità diverse. In Svizzera solo negli allevamenti di galline lo standard di benessere degli animali è generalmente molto elevato. qui circa l'80% può freggiarsi di un marchio di qualità. Dove invece ci sono stati relativamente pochi miglioramenti è nelle aziende con le mucche. Qui molte soddisfano solo i criteri minimi di qualità e secondo noi lì lo sviluppo è ancora insufficiente. di un'attività di un'attività di un'attività diversi animali si potevano mettere in questa stalla per dare loro un ricovero immediato e sicuro. Poi non se n'è fatto nulla. Per il momento è ancora pendente da qualche parte. Ebbene è una realtà quella che abbiamo visto che lo dicevamo già prima è spesso sconosciuta ai consumatori che acquistano la carne senza magari rendersi conto di quello che c'è può essere dietro. Diciamo anche che alcuni di questi sono davvero casi estremi e la stragrande maggioranza io ci tengo già a dirlo è già in entrata di programma la stragrande maggioranza degli allevatori fa bene il proprio lavoro però effettivamente abbiamo visto che si può migliorare ci sono delle derive tra poco andremo a vedere cosa succede appunto nella Svizzera italiana. Allora signor Pedrini quelle foto che ha visto sono un po' un pugno nello stomaco per chi ha a cuore gli animali ma anche direi per chi di fatto fa dipendere una buona parte del proprio reddito dagli animali come le commenta com'è possibile che dei contadini possano fare cose simili? Ma ci sono sicuramente dei problemi dietro anche a livello personale le situazioni gravi esistono sono esistite vanno condannate non sarò certamente io ad andare a difendere chi non merita di essere difeso ci tengo però a appunto che far sì che non si generalizzi che non si faccia passare un messaggio che tutti sono così perché a volte anche il singolo cittadino piuttosto che i vostri inviati anche se accompagnati da una esperta della protezione animali non hanno l'occhio critico o le competenze per capire se vi è un maltrattamento o meno un animale sotto la pioggia se non è da tre mesi che piove e sono dieci gradi sotto zero non patisce niente purtroppo questo la gente non lo capisce le situazioni gravi vanno condannate noi stessi facciamo sempre appello ai nostri affiliati affinché si lavori bene per l'immagine di tutti perché ne basta uno per rovinare l'immagine di tutto il settore è quello il problema e quando le situazioni gravi vengono risolte è per noi anche un sollievo ma voi ne segnalate? ma noi solitamente non segnaliamo perché non è un nostro compito noi piuttosto si va dalla persona dire guarda che non stai facendo un buon lavoro ma è anche sempre un po' difficile ci sono le autorità preposte e le autorità preposte fanno il loro lavoro poi quando si parla come diceva prima il signor Beso mi è difficile arrivare a un sequestro animali beh queste sono procedure penali che permettono di fare dei ricorsi e tutte queste cose dunque come in tutti i casi la giustizia ha il suo corso e se la giustizia è lenta non è colpa dei contadini allora ha messo alcuni elementi già lì sul tappeto parlava delle autorità il ruolo delle autorità l'abbiamo sentita anche un po' criticate nel pezzo dalle associazioni a difesa degli animali stasera con noi un punto importante ancora forse si è parlato tanto delle molte lo possiamo dire dopo facciamo entrare l'altro ospite se lo ricorda pienamente con noi stasera c'è il veterinario cantonale Luca Bacciarini buonasera salve buonasera salve prego dottore se comodi allora abbiamo mostrato alcuni casi abbiamo sentito le difficoltà che ci sono gli addetti ai lavori che dicono non si fa abbastanza per prevenire questi casi allora che cosa risponde cioè ci sono casi dove a volte le situazioni si trascinano per molto tempo e voi non riuscite a risolverle e poi arrivano casi estremi come quello appunto della Svizzera interna sì allora bisogna fare forse magari due osservazioni sui casi che abbiamo visto perché il caso di Efenhof logicamente è un caso molto grave c'è un maltrattamento è lì da vedere avete mostrato anche due esempi quello di Giornico ma è uscito anche il sottotitolo e quello di Biasca e sono due casi che erano due casi per il Ticino erano due casi gravi si vedono le immagini e tutti e due sono stati sono stati trattati con urgenza da parte nostra e gli allevatori hanno ricevuto un divieto di tutti gli animali quindi sono casi che sono stati quello che però vado a dire anche che un caso del genere poi ha degli strascichi che sono molto lunghi per esempio il caso di Biasca non è ancora finito adesso dalla parte diciamo così processuale e prima dell'intervento non c'è voluto tanto tempo e poi ci vuole anche troppo tempo guardi il problema è sempre allora dal punto di vista della protezione animali anche da parte mia personalmente vorrei sempre intervenire subito prima e anche riuscire anche a prevenire determinate cose logicamente poi siamo in uno stato di diritto quindi io non posso intervenire con l'allontanamento degli animali di vetro di tenuta alle primissime avvisaglie quindi si fanno si fanno dei controlli si danno con delle decisioni amministrative di si intima di fare delle modifiche e poi deve essere deve essere quando è ripetuto che poi si può si può intervenire poi se la persona se la persona fa ricorso e le istanze di ricorso danno ragione quindi accolgono il ricorso noi dobbiamo ricominciare da capo quello è una cosa l'altra cosa quello che diceva il signor Ghieri sul fatto ecco lì bisogna distinguere un attimino il presidente di Thierry Mrech dice il fatto che diceva che si fanno meno controlli che si prendono meno sul serio le segnalazioni questa è rivolta a lei allora quella è rivolta a noi come autorità e di per sé non corrisponde al 100% è vero che abbiamo anche diciamo così dalla parte logistica anche del personale del mio ufficio non è che nuotiamo che abbiamo decine e decine di collaboratori è un problema di tanti settori e molti settori così logicamente però quello bisogna fare attenzione è anche non guardare il singolo caso il signor Ghieri ha tirato fuori il singolo caso con una multa di 100 franchi più la tassa di 20 però non ha nessun idea di che caso che non era nemmeno l'allevatore tra parenti di una persona che aveva trovato in giro un agnello si ma poi vengono 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 anche diciamo così anche l'importo dipende anche da caso da caso anche dalla persona noi arriviamo anche a multe che vanno 5-6-8 8 mila franchi di elettor il signor Ghieri ha mostrato quella lì per far vedere che sono bassi e che non facciamo abbastanza hanno una visione globale non è che ne fa vedere una sola forse è importante anche dire che il signor Ghieri si basa sul numero di detentori di animali che non è il numero di agricoltori perché il numero di detentori di animali sono anche i privati cittadini che hanno delle pecore delle capre non aziende agricole le aziende agricole l'anno scorso il 30% delle aziende agricole è stato controllato e purtroppo sono state trovate anche delle lacune lacune minore solitamente sono spesso anche delle lacune a livello amministrativo una cosa importante da dire sulle multe quello che non si è detto e che nessuno ha detto finora è che anche se le multe sono basse da parte dell'ufficio del veterinario cantonale le aziende agricole gli allevatori iscritti ai pagamenti diretti non ricevono unicamente la multa ma nei casi gravi hanno anche un decurtamento dei pagamenti diretti è vero mi risulta raramente succede molto raramente ci sono i programmi di detenzione degli animali e sono anche decurtazioni molto importanti e se uno non rispetta il programma in cui si è iscritto oltretutto programmi volontari in cui ci si iscrive per il benessere animale se non rispetta le regole vengono decurtati anche fino a 15 20 mila frate dunque non è nell'interesse dell'allevatore farsi prendere in castagna e dunque bisogna lavorare bene permettetemi di dire abbiamo finito anche nel filmato c'era il presidente dell'associazione protezione animali di Bellinzona che è con noi questa sera con noi appunto Emanuele Besomi si apre si apre buonasera buonasera prego si accomacano Besimi allora lei ha sentito qua il dibattito ha visto tra un attimo andiamo anche a vedere proprio anche il nostro test senza preavviso nelle fattorie della Svizzera italiana lei ha mostrato delle foto delle situazioni che sono verificate qui di solito poi segnalate all'autorità allora riscontri da parte del cantone siete soddisfatti appieno ho sentito le critiche dell'associazione Thierry Imrecht si può fare di più si può fare meglio ma allora sicuramente si può sempre fare di più questo è un dato di fatto vorrei anche dire mi permette di sottolineare ancora quello che è già stato ribadito in entrata è che stiamo sempre parlando di una minoranza di allevatori quindi la stragrande maggioranza e qui lodo anche l'unione contenuti cinesi perché sta facendo negli ultimi anni degli sforzi per migliorare questo comunque a noi come protezione animale interesserebbero e saremmo ben contenti di poter avere degli interventi molto più rapidi e incisivi perché purtroppo alcune situazioni grazie o per fortuna qui sono sempre le due cose al diritto di ognuno di ricorrere si trascinano per anni senza risolvere e l'animale purtroppo rimane in una brutta situazione quindi da parte nostra vorremmo sicuramente un intervento più veloce e più incisivo poi però purtroppo dobbiamo o per fortuna dobbiamo rispettare tutto quello che è un iter burocratico legislativo che esiste in Svizzera certo e quindi diciamo questa è una situazione a cui ci si deve adeguare è peccato ma purtroppo attualmente è un po' triste è triste sì però attenzione bisogna fare attenzione di non passare dalla parte illegale perché poi dopo ci sono questi gruppi estremisti che vanno a liberare animali eccetera eccetera e questo è ancora peggio quindi sicuramente noi vorremmo e auspichiamo anche in futuro una modifica dei processi per essere molto più incisivi allora vediamo se da casa ci sono delle reazioni poi andiamo a vedere se non avete poi altro da aggiungere lei si ricorda quello che doveva dirmi e me l'ha già detto ah perfetto ogni promesso è debito se deve dire le cose non voglio che le dimentichi Igor sì ci sono delle reazioni e ci sono anche delle foto alcuni segnalano dei casi di animali lasciati all'aperto al freddo o sotto la pioggia appunto ci hanno inviato delle foto scattate sul piano di Magadino sono delle mucche scozzesi e c'è in generale c'è moltissimo fango e non c'è nemmeno un riparo sufficiente per tutti gli animali che sono moltissimi quindi ecco la domanda al veterinario cantonale conosceva questa situazione? sì qui abbiamo alcune tenute specialmente appunto con questa razza di di vacche le scozzesi e ci stiamo lavorando anche con con gli altri attori per cercare di porre un rimedio definitivo a questa situazione non li fate chiudere non li portate via gli animali il problema di queste aziende è che durante la tarda primavera l'estate l'inizio dell'autunno dove sono fuori sono sugli alpeggi funziona sono 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 tutte bene il problema è quando vengono concentrate durante l'autunno tarda autunno inverno in situazioni dove logicamente c'è il calpestio il calpestio del suolo sia che sia con i cavalli sia con i bovini e fa sì che poi si forno il fango abbiamo visto anche in questi ultimi paio di mesi anche con le settimane di precipitazioni quello è un problema però così non dovrebbe essere così non dovrebbe essere questo è importante dire così piove così si fa ci sono modi per evitarlo complessi difficili non è evidente però non è evidente nel senso che poi bisogna sapere anche gestire le varie situazioni Igor sì qualcuno segnala anche che in Ticino ci sono delle persone degli allevatori che hanno il divieto di tenere animali eppure li hanno ancora e nessuno interviene le risulta? adesso io non posso parlare dei singoli casi però sì purtroppo ci sono anche dei prestanome che quindi gli animali figurano registrati sotto altre persone e quindi poi diventa difficile da parte nostra riuscire a diciamo così a sanzionare queste persone che di per sé hanno il divieto di tenuti già da più anni in questo modo si aggira l'ostacolo perché diventa difficile e poi magari anche in quelle mantenuti ancora male quello lì sul filo del rasoio sul filo del rasoio perché poi appunto queste cose si trascinano certo gli animali vengono spostati magari si ricomincia di nuovo però il problema non è così evidente poi in determinate situazioni l'ultimo poi andiamo a vedere il test nelle fattorie sì una segnalazione che riguarda le valli in Ticino dove parebbe che molte capre vengono abbandonate scrivono dei veri e propri greggi di capre inselvatichite gli animali non vengono in parole povere controllati e le autorità non intervengono tra l'altro proprio pochi mesi fa su questo tema è stata presentata un'interrogazione parlamentare tutto corretto tranne le ultime quattro parole con le autorità non intervengono perché siamo già da cinque anni che siamo intervenuti in modo relativamente con forze perché sì ci sono sono pochi ma ci sono degli allevatori che lasciano fuori principalmente capre durante l'inverno fuori abbandonati sul territorio animali che non sono marcati eccetera sì sì sono già volati anche dalle belle multe pesanti ma quanti interventi fate in un anno dipende allora ci sono quelli organizzati a tavolino che facciamo anche assieme al servizio del cantone poi facciamo una su segnalazione alla fine riusciamo a farne da anno a anno dai 70 ai 90 interventi sì e sanzioni percentuale parlava del 30% no 30% quelle controllate poi dipendenza di cos'è la problematica qua però è un problema ma se dal 18% che stiamo arrivando all'inizio ad agio ad agio riuscendo ad averla meglio su questo 5 anni ce ne vuole faticoso erano più centinaia di animali lasciati fuori così va bene allora andiamo al dunque perché vogliamo portarvi nelle fattorie della Svizzera italiana dove vengono appunto allevati anche qui animali di vario tipo animali da reddito e quindi abbiamo deciso di andarci di presentarci senza preavviso senza alcun tipo di preavviso per vedere un po' l'effetto che fa diceva una famosa canzone chi ci ha aperto le porte che cosa è successo quando siamo arrivati che cosa abbiamo trovato ve lo raccontano Igor Steli e Olmo Invernizzi con il pazzo che in testa sei venuta dal monte dalle dalle verso a piano con il pazzo rinco che porta in mano riempie di gioia il cuore per la tua bestia formaggi polli salametti prodotti regionali venduti ai mercati dalle aziende agricole ticinesi ma in che condizioni si trovano gli animali nelle fattorie per scoprirlo ci affidiamo a un'esperta sono Alice Raselli ispettrice per la protezione di animali svizzera rigorosamente a sorpresa decidiamo di visitare alcune aziende agricole della svizzera italiana prima tappa questa piccola fattoria storica a Castione ma all'inizio non è dei più promettenti qua si vedono tantissimi rifiuti organici con tanto di plastica che non è proprio l'alimento ideale per nessun tipo di animale banane marce pane nei sacchetti di plastica che fanno la muffa e qui troviamo gli animali in questo momento due caprette quella che vediamo adesso là si vede che non è proprio sana c'è qualcosa che non va e poi qui e qua vediamo tutti i rifiuti organici e plastica qua troviamo segatura escrementi di cavallo escrementi delle capre ferro appuntito cose che possono ferire gli animali se ci passano i nostri primi sospetti trovano rapidamente conferma quella capra si vede adesso già da mezz'ora che non riesce ad alzarsi e dovrebbe intervenire subito in veterinario a valutare cos'è la soluzione migliore per il benessere dell'animale da questa prospettiva vediamo bene le unghie che sono lunghe 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 sia quelle davanti che quelle dietro forse è questo anche uno dei motivi perché non si alza e non riesce a camminare una situazione penosa davanti agli occhi di tutti passa un casino di gente da qua e vedono dove è il problema non è normale che ci siano tutti questi rifiuti organici che la capra non si muove e quindi ci si chiede dove sono i controlli e dove sono anche le multe cerchiamo il proprietario della fattoria pronto? si pronto buongiorno escegli al telefono sono un giornalista della RSI di Patti Chiari si 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 accetta di parlare e ci spiega di possedere solo un paio di capre faccio solamente trasporti di animali e un po' di commercio di pieno sedi lì proprio davanti alla stalla si si siamo qui davanti adesso si si avete visto che c'è giù tutta quella porchetta c'è sul cartello tutto ma buttano dentro di tutte quei genti sono i gerenti dei ristoranti che li portano di notte arrivano alla sera e buttano dentro ah buttano dentro così ah non è roba sua si si per forza le osse di costine buttano giù buttano giù inserga là inserga ancora un paio ma dopo le capre mangiano insomma no no quello no non c'è pericolo no no perché sono furbe le capre sono furbe e con le unghie lunghe e come la mettiamo sono tagliato io 10-15 giorni fa mi pare che ci sono in giro ancora i pezzi di unghie lo so che arriveranno qualcuno a reclamare ma me l'hanno già detto ma continua sempre a tagliarla queste unghie e cresce sempre e se cresce vuol dire che sta bene la bestia se l'ingerva chiata perché perché gli piace stare lì in girocchiata purtroppo avete trovato anche i giorni che più non sarà mica solamente il mio che è bagnato il terreno e ci sono un giro le mucanotrici che hanno sul fango fino ai gironchi e allora quelle lì vanno bene quelle lì no no per carità andiamo a vedere anche e quindi no to lì e qui e qui vede che comunque qualsiasi mucca è abbastanza sporca in più zone del corpo e ci sono dei esemplari dove iniziano già a essere delle piccole incrostazioni e per quanto riguarda la lettiera già da qua si vede che comunque non è asciutta, è piuttosto fangosa e non c'è della paia fresca. Poco più in là stessa situazione. Si vedono più parti del corpo che hanno proprio queste incrostazioni, sotto la pancia si vede quasi che sono alla pelle queste incrostazioni. Fango e concime, di tutto, escrementi. La pulizia non regna sovrana. Non regna sovrana. Posso immaginarmi che è anche difficile pulire su una pavimentazione dove non è rigida. E qua vediamo un pochettino anche le unghie che iniziano ad essere abbastanza lunghe. Un problema che si ripropone con questi asini. E anche qua vediamo che i zoccoli non sono stati fatti nell'ultimo periodo, iniziano ad essere molto lunghi, per esempio quello che inizia proprio a inclinarsi, inizia ad avere anche un'andatura alterata, cammina proprio male perché non riesci più a poggiare bene lo zoccoli. E la pulizia? Abbiamo della plastica, di imballaggi del silo ovunque. Escrementi anche. Escrementi, quindi non sono stati puliti recentemente, montagne di escrementi. Non è la pulizia idonea. ...la mangiatoia, però quando puliamo la mangiatoia delle mucche glielo butto a loro, probabilmente qualche pezzetto di plastica in mezza lì. Comunque quando asciuga avevo già intenzione di pulirsi tutto. E non è che dico che pulisco su tutto perché sono davanti alla televisione, perché io quello che dico che faccio, lo faccio veramente. Ma gli zoccoli sono già d'accordo con il maniscalpo che deve farli. E gli escrementi, gli asini li fanno più o meno sempre nella stessa zona e quindi si accumula. Si potrei anche vendergli gli asini. Le mucche no, cioè il nostro. Grazie. Non c'è nessuna giustificazione. È chiaro che probabilmente il prossimo passo che faremo l'anno prossimo è fare un pezzo di cemento e quando è brutto tempo anche l'area di svago è come nell'azienda a casa. Forse se andiamo a guardare in giro ci sono tante che non sono in area di svago ma dormono fuori gli animali. Qui non dormono, qui vanno solo fuori un'ora o due al giorno. Dalle mucche del piano di Magadino a quelle del Mendrisiotto. Azienda agricola Vizzardi, arriva San Vitale, qui troviamo le mucche di fuori. Sono tutte, proprio nessuna eccezione, molto sporche, molto incrostate, più parti del corpo, specialmente tutta la pancia. Qua abbiamo proprio tutte le incrostazioni sotto, dei pezzi grandissimi. La lettiera sembra umida vederla così dal fuori e per così poche mucche comunque ci sono tanti escrementi quindi la probabilità che non viene proprio pulita tutti i giorni è alta. Qui hanno acqua. Hanno il fieno di là e l'acqua di qua. Verifichiamo. Questo è l'unico abbeveratoio che vediamo e guardate qua l'acqua. Tutta sporca e sotto, sorpresa, troviamo questo. Sì l'abbeveratoio è molto sporco, qua l'igiene è un po' mancante. C'è un po' di tutto in quel abbeveratoio. C'è un po' di tutto tranne l'acqua pulita. Il proprietario dell'azienda lo avevamo incontrato al mercato di Bellinzona dove ogni sabato vende i suoi prodotti caseari. Non vuole rilasciare interviste, ci ha detto che comunque le sue mucche stanno bene, che vengono regolarmente controllate dal veterinario cantonale. Lui le pulisce ogni due giorni e precisa che quella che abbiamo trovato negli abbeveratoi in realtà non era acqua, ma era siro. Pollegio, azienda agricola Piz Forca. Hanno i maiali, vedo. Poi abbiamo visto hanno anche le mucche, hanno gli asini, i cavalli, un po' di tutto. Un po' di tutto. I maiali si trovano in questo spazio all'aperto. Qua possono di per sé fare quello che il maiale adora fare, scavare col naso, fare il bagno nel fango. I maiali sono puliti comunque, hanno spesso il problema che sono troppo poco occupati all'interno delle stalle e quindi iniziano un po' a mangiucchiarsi le code e qua invece le vediamo tutte belle intere. Insomma, bene. Anche se qualche appunto l'ispettrice non lo risparmia. Secondo la detenzione permanente all'aperto, il suolo degli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina. E qua abbiamo piuttosto tutto fangoso e tutto bagnato. Abbondante invece lo spazio nei rifugi coperti dove non manca paglia asciutta. Qua vediamo che hanno il siero probabilmente mischiato con acqua, non si vede. E un po' contenitori non sono proprio super puliti e manca l'acqua, proprio solo l'acqua. Abbiamo anche qua un pochettino lo stesso problema dell'acqua che sporca in questa bacinella. Nell'azienda ci sono anche degli asini. C'è della muffa nel fieno, nel silo. Gli asini sono abbastanza sensibili, in generale anche per coli che così non è il massimo la muffa. Vediamo un po' anche qua la sporcizia fuori. E all'interno della capannina non vediamo della paglia o della siegatura come lettiera. Ci sono un paio di rimasugli, ma non sufficienti. Il proprietario dice di non avere tempo di rispondere alle nostre domande. Ad ogni modo la sua azienda presenta anche molti pregi. Qui dietro vediamo la stalla delle mucche da latte, un'infrastruttura molto moderna. All'interno abbiamo visto che c'era il robot di mongitura, il robot che fa la pulizia dei pavimenti, è a circolazione aperta, possono già uscire sul pascolo. È così che dovrebbe essere. Dalla Leventina alla Valle di Blenio. Ad Aquila troviamo questa azienda con pecore, asini e cavalli. All'entrata della fattoria, un agnellino morto è abbandonato. Chiediamo spiegazioni, ma... Visita bruscamente interrotta. Il gestore della fattoria non vuole rilasciare interviste, ma soprattutto non vuole che filmiamo i suoi animali. Peccato per un'azienda che oltretutto al marchio bio. Mostriamo le immagini all'ispettrice della protezione animali. Diciamo che non è un bel vedere trovare un cadavere di un agnellino, proprio l'entrata di un'azienda in più bio suisse che dovrebbe essere un modello di azienda. Da quanto tempo può essere lì? Difficile da dire. Difficile da dire. Con sto freddo probabilmente potrebbe essere da un giorno, era ancora ben intatto e non troppo gonfio. Grazie. Grazie. Gli Linfilli di un comune. Spero sempre avere a disposizione del fiene. Come mai? Non c'è? Stamattina ci ho avuto da fare, non ho avuto il tempo di darglielo. Ovviamente col caseificio non posso dedicarmi totalmente al bestiame, ma devo anche fare il resto delle mansioni. Loro escono tutti i giorni? Sì, sì, le mucche quando non c'è proprio questo 오늘은imento. Grazie a tutti. ...e formaggio. Tutti prodotti che il consumatore ritrova puntualmente nella capitale il sabato mattina. E stavolta, quanto a benessere degli animali, possiamo dormire sonni tranquilli. Tutta produzione propria. Produzione propria. Allora, ma da un formaggin? Ecco, va bene. Bene, avete visto, tra l'altro abbiamo anche chiuso in bellezza con una di queste fattorie dove le cose vanno bene, come ce ne sono tante in Ticino e lo abbiamo detto, però abbiamo visto che ci sono anche dei problemi, anche poche possono danneggiare l'immagine poi di tanto. Ci sono probabilmente anche molti margini di miglioramento, da quello che abbiamo visto. Omar Pedrini, allora, un commento? Riflette la situazione come la conosce lei, meglio o peggio? Ma partirei con un punto, la metà del servizio è stato fatto su delle aziende assoggettate ai pagamenti diretti, dunque agricoltori, l'altra metà del servizio invece non riguardano aziende agricole. Voi le chiamate tutte aziende agricole, sono tutti allevatori, ma come dicevo prima ci sono le aziende agricole, ci sono i detentori di animali. Però devono tutti garantire, il consumatore non fa grande differenza. Abbiamo visto delle situazioni, a mio modo di vedere, a parte una dove effettivamente l'animale si vedeva che era sporco, le altre situazioni erano delle situazioni normali, anche perché uscivamo da un lungo periodo di pioggia, questo va anche detto, cioè non è la situazione di tutti i giorni. Come ha detto bene l'allevatore bizzozzero, quella è l'area di uscita, non è l'area dove gli animali vivono tutto il giorno. È stato detto anche ai vostri operatori di entrare a filmare l'area di riposo all'interno, non si capisce perché non è stato fatto, cosa che invece è stato fatto nelle altre stalle. Dunque questo non è lo spazio dove gli animali vivono tutto il tempo. La stessa cosa vale per i maiali che abbiamo visto a Polleggio. Allora non possiamo garantire lo spazio a sufficienza e l'attività per far sì che non vadano a mordersi la coda tra di loro ogni tanto e poi quando piove per non creare il fango e rinchiuderli in un box. Perché dal momento che io li chiudo in un box per una giornata, il giorno dopo usciranno i maiali senza la coda. Dunque ripeto, uscivamo da un periodo di lunghe piogge, di forti piogge. L'ha detto l'altro giorno Meteo Svizzera, è stato il mese di marzo più piovoso di tanti anni. Poi abbiamo visto la situazione dell'agnello morto fuori dall'azienda. Beh, non è un bel vedere, lo ammetto anch'io, ma non sappiamo da quanto tempo era lì l'agnello e non è una cosa da vedere così come catastrofica. Purtroppo può succedere che un agnello, un caprete, un vitello muoia. Lo si mette lì, poi lo si porta via, non sappiamo neanche dove era l'allevatore. Magari l'allevatore era dietro la porta, semplicemente non voleva parlare con voi, non sappiamo dove era. Sono stati lì a cercarlo, ma non c'era. Vabbè, mi parli capire che per lei mi sta dicendo che è fisiologico, dobbiamo abituarci a questa situazione. Ma non è che dobbiamo abituarci a questa situazione. Non so se sei d'accordo, Pesone. La stalla di Bizozero è stata costruita così. Negli anni quando quella stalla è stata costruita non era obbligatorio avere un'area di libera uscita in cemento. Oggi come oggi le aziende si stanno adattando. Si sta adattando, fa autocritica, devo dire, bene, no? Siamo molto contenti. Però si sta lavorando in questo senso. È interessante vedere gli allevatori che dicono, ok, quella roba la devo migliorare perché così non va bene. Noi siamo contenti, si tratta di persone serie e competenti. Ma non è quegli animali che la signora definiva sporchi. Non sono sporchi, mi dispiace dell'azienda Bizozero. Allora non capirà nulla l'esperto della commissione. Ma già solo valutare degli animali senza entrare nel recinto a contatto con gli animali a me sembra già una cosa un po'... Non possiamo entrare, però guardiamo. La questione delle unghie è una persona che fa i controlli nelle stalle accreditata, sa benissimo che in primavera, mese di marzo e aprile, e non è una barzelletta che racconta Omar Pedrini questa sera, nel mese di marzo e aprile le stalle sono piene dei cosiddetti tagliaunghie che vengono a preparare gli unghioni degli animali, sia dei cavalli che degli asini, per la stagione estiva. Dunque fare delle illazioni sulle unghie lunghe al mese di marzo, quando anche i paracarri attivi nel settore sanno che è il momento che si tagliano le unghie, non va bene. Come l'affermazione nella stalla del signor Rossi, si vede che qui mangiano solo fieno e non silo. Ma cosa vuol dire? Che il silo non fa bene al benessere? No, perché qua sono state dette anche cose che se lette tra le righe possono anche far male. O dire un'azienda bio-suisse, ma perché bisogna screditare il bio in questo modo, perché c'era un agnello fuori dalla porta morto? Le regole della protezione animale sono uguali nel bio come nel non-bio. Non vi intendiamo, nessuno ha detto quello. È stato rimarcato due volte in quel pezzo di intervista, oltretutto un'azienda bio-suisse. No, è certo, perché da un'azienda bio-suisse ti aspetti ancora maggior trasparenza, ancora di più. La legge sulla protezione animale è il benessere animale. È uguale. Quindi, mi faccia capire, d'accordo, quindi questa è la situazione a cui il consumatore ci deve abituare. No, assolutamente. Quello che bisogna però capire è che non è, qui vorrei spezzare veramente una lancia a favore degli agricoltori, è quelli professionisti. Perché attenzione, il grosso problema che come protezione animale abbiamo, e molto spesso andiamo a cozzare lì, sono molto meno con i professionisti, quindi le persone formate, rispetto agli hobbisti, chiamiamoli così. Ed è lì purtroppo che si mischiano sempre le due cose, tutti gestiscono degli animali, c'è chi lo fa con cognizione di causa. Ma certo, l'abbiamo anche visto. E devo dire una cosa, anche a me non piacciono determinate situazioni. Si potrebbe migliorare, si possono migliorare alcune cose. Poi ci si scontra con delle realtà economiche, ci si scontra con delle realtà generazionali. Ed è qui che da parte nostra vorremmo un po' più di incisività e di velocizzazione nelle reazioni. Ma anche per poter permettere all'agricoltore o al contadino che ha delle difficoltà di poter dimostrare che sta facendo. Questo è molto importante. Vorrei veramente però distinguere anch'io la differenza tra professionisti, chi vive realmente con gli animali. E posso dire negli ultimi 4-5 anni, io personalmente, come Presidente della protezione animale abbiamo visto dei grandi miglioramenti. Fortunatamente stiamo migliorando in questo senso. C'è ancora molto da fare, però, questo senz'altro. Signor Bacciarini, voleva commentare alcuni aspetti legati. Magari anche differenziare un attimino quello che abbiamo visto nei vari filmati. Però le chiedo se lì quello che ha visto meritava l'intervento dell'autorità o se tutto va bene così. Aspetti, poi glielo dico. Il primo caso, che di per sé non è un'azienda agricola, sono due caprette, lì ho fatto rimarcare anche il suo collaboratore, la prima cosa da fare era segnalare al nostro ufficio. Se ci sono gli animali, per esempio, che si erano zoppi, se avevano difficoltà, eccetera, bisogna segnalare subito al nostro ufficio. Abbiamo anche un modulo per segnalare tramite la nostra pagina internet. Devo dirle che io la sera stessa, quando il suo collaboratore mi ha mostrato il filmato, sono andato a controllare. Le due caprette stanno bene, anche quella che sembrava che non si muovesse. Lì un problema che c'è, poi magari in parte vero, in parte non è vero, è che ci sono molte persone, purtroppo, che scambiano le tenute di animali, specialmente quelli del derito, come delle discariche e quindi mangiano tutto. Quindi il pane era fermo, il pane con la muffa, abbiamo visto tutti quegli scarti, magari buttano dentro le plastiche assieme. È vero, questo detentore metteva anche i cartelli con su scritto non buttate dentro rifiuti organici nei miei prati e sistematicamente li strappavo via anche io. Bene, questa è una situazione. La situazione che abbiamo visto... Sì, sì, siamo già intervenuti. Sì, è anni che la conosce. Sì, sì, siamo intervenuti più volte. Ecco, questo mi ha anche detto. Allora, intervenite, continuo, intervenite, continuo. No, no, capito, ma... No, no, attenzione, però adesso c'era un maltrattamento. Allora, non mi si è chiamato subito, e quindi non abbiamo potuto verificare se in quel giorno lì c'era qualcosa che non andava con le due caprette. Capisce? Però se stai dicendo che non si conosce vuol dire che nel passato ce ne sono stati altri di casi. Ci sono, ci sono... Sì, ma adesso tra dire che ci sono dei problemi, segnalazioni, a dire che c'è il maltrattamento ci sono ancora, ci passa ancora... Certo. L'altro problema che abbiamo visto nel sottoceneri quello è in... Non si può giustificare e lì siamo già intervenuti X volte. Anche X volte. Sì, siamo già intervenuti anche tra parentesi ancora prima questa primavera, ancora prima che il suo collaboratore mi mostrasse i filmati. Poi, l'azienda bio con l'agnello. Allora, logicamente che un animale, specialmente un giornale, possa morire, diciamo così, è fisiologico sul numero di... Ora, qui quello che non funziona è quello che riguarda la biosicurezza. Questo animale andava messo, se non l'ha portato subito al centro regionale di raccolta delle carcasse, è messo perlomeno in un sacco, appeso in alto, che non arriva né un cane né una volta portarlo via, anche perché potrebbe anche essere un problema per gli altri animali. Abbiamo visto l'ultimo caso, va bene, anche se lì chiaramente gli animali escono poco, quindi l'area di uscita sarà stata più o meno vivibile, diciamo così, non così con il fango. Logicamente, dopo tre settimane passa di fango, se non abbiamo un'area di uscita compattata, è quello che abbiamo visto con gli asini e con i bovini. Però la differenza tra il caso del sottoceneri e il caso su piano di Magadino, la pulizia degli animali è evidente, nel senso che sotto i ceneri anche la litiera non c'era e poco c'era, era sporca. Quello sul piano di Magadino la litiera c'è, non siete entrati nelle stali, però la litiera c'è. Sta di fatto che c'è uno o due animali che sono un po' sporchi, ma gli altri sono puliti. Logicamente la parte di zoccolo, di unghione che entra nel fango, è quello sporco. Quello dei maiali, sì, lì è il problema, tenuta semi-estensiva per lasciare il più possibile il benessere dell'animale, la possibilità di gruffare. Ma lì alla fine la valutazione è stata buona, dicendo forse c'era troppo fango, ma è stata valutata bene come situazione. Quindi bisogna fare un pochettino quella differenza lì. Allora, è chiaro che appunto ci sono dei problemi, perché in fondo le tenute, addirittura diciamo che mediamente c'era una ventina... C'era troppo fango, non è quella la critica, però c'era troppo fango, ma d'altronde tre settimane che piove dava un altro impatto alle immagini presentate. Sì, ho capito, ma la situazione è quella. Allora si giustifica e si lascia così. E' troppo chiaro che un attimino più... Quando piove bisogna prendere delle misure, se la legge è quella, se la norma è quella. Sì, ormammone, anche sul piano di Magadino un attimino più di pulizia, di ordine, anche di recupero delle feci degli animali, un attimino di più. Perché io sono un po' stupito che mi giustifichi tutte quelle situazioni. Capisco che piove, però urina... È un lavoro duro quello del... Io mi sono reso conto, scusi, guardando il filmato quanta fatica dovete fare, perché tenere in condizioni giuste significa un lavoraccio. Quelle stalle sono state costruite così perché la legge permetteva di lavorare così. Poi di colpo cambiano le leggi, ma bisogna anche finanziare le cose. Non è che da un giorno con l'altro... Ma se giustifica così, allora vabbè, certo uno le deve finanziare, ha ragione. Ma è stato detto, le aziende si stanno mettendo in regola. Come ho detto, quello che avete filmato è l'area esterna, non è l'area di ricovero. Abbiamo però visto delle immagini inviate dai telespettatori dove invece quelle realtà sono 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7. Tra l'altro ho sentito il contadino che diceva io sto valutando se non tenere più gli asini che magari non mi serve, però che si fanno, devono fare delle scelte, presumo. Quello è chiaro. Presumo. Allora, non so se hai aggiungere qualcosa perché... Toccava bene il tema asini, questo è uno di quei temi che ci tengono parecchio impegnato. ed è anche qui questo, la dimostrazione l'ha ancora detto il contadino. Purtroppo ci sono degli animali che vengono tenuti come dei decespugliatori naturali a basso costo e infischiandone altamente delle loro necessità perché comunque vabbè, li tengo lì, mi puliscono il prato, poi tanto arriva il macellar e fa il salamite. Purtroppo queste sono delle situazioni che vediamo e sono quelle situazioni che ci creano parecchi problemi perché quello che si diceva all'inizio di vieto di detenzione di animali eccetera eccetera e poi c'è il famoso gioco delle valigie. Cambiano proprietario, c'è il prestanome ma la cosa che ci fa tribular di più e sono questi specialmente gli asini sono particolari perché vengono spostati in continuazione e quando tu li trovi da una parte li segnali il tempo di intervento e gli asini non ci sono più e non li trovi più fino a qualche mese dopo. Allora Igor vediamo un po' se ci sono da casa reazioni. Sì ci sono reazioni casi segnalazioni di casi specifici come questo ad esempio ho segnalato alla polizia di Lugano una stalla dove le mucche erano sotto la pioggia e non potevano sdraiarsi perché c'erano fango ed escrementi né la polizia né il veterinario cantonale se ne sono occupati. Poi una provocazione ci giunge da Riazzino vogliamo delle pecore che partoriscono a Riazzino vicino alla rotonda immancabilmente in inverno talvolta nella neve senza giaciglio ne vogliamo parlare non so se questa situazione al signor Bacciarini giunge nuova oppure questa fa parte del discorso che facevamo prima uno di quei casi dove facciamo fatica ad arrivare sul reale detentore perché ci sono i prestanomi anche lì c'è sempre quel problema di trovare perché il prestanomi è un gioco delle tre carte di per sé l'animale le ultime settimane prima che partorisca e le prime settimane dopo che ha partorito quindi anche con i giovani animali di per sé per ordinanza federale sono da tenere in stalla dopo se il clima emite si può tollerare che possono uscire che sono ricoverati solo la notte ma l'accesso alla stalla devono averlo e il problema sono casi però dobbiamo dire che anche i proprietari di pecore sono di per sé pochi casi la percentuale per fortuna è relativamente bassa però bisogna intervenire in tutti questi casi Igor? Sì abbiamo ancora altre foto un video che ci ha inviato una telespettatrice lo vedete adesso sempre sul piano di Magadino la tradizionale vasca bianca dove di solito bevono le mucche solo che in questo caso ahimè non è stagna esce tutta l'acqua e così gli animali sono poche parole costretti a bere dalla pozza di fango ma appunto è una situazione normale questa signor Bacciarini c'è qualcuno che controlla? Certamente no bisognerebbe ecco allora un altro punto che ci trea a sottolineare è come l'ho detto prima segnalare al nostro ufficio anche tramite il formulario online tutti lo possono fare lo possono fare tutti non è sufficiente tante volte lo postano su Facebook o su altri social e poi poi dicono ah ma lo sapevano tutti cioè noi non abbiamo il tempo non possiamo andare dobbiamo ricevere la segnalazione direttamente ok se c'è ancora altro se non andiamo verso la fine Igor tutto per ora per ora per ora allora Sir Pedrini diciamo per un bilancio qual è cosa si sentirebbe di dire ai suoi associati diciamo quelli che fanno parte dell'associazione i miei associati mi conoscono i miei associati sanno che i miei colleghi i miei associati non sono capo di nessuno non sono sanno come la penso io l'indifendibile non lo difenderò mai mi batterò sempre per quelle situazioni dove si vuole cercare il problema nel non problema ci sono delle situazioni dove bisogna intervenire e le autorità lo fanno e su questo è inutile che si dica che non vengono fatti i controlli perché vengono fatti regolarmente ci sono delle situazioni che al cittadino possono sembrare non normali ma invece rientrano nella legge come dicevo le nostre stalle sono aperte sono aperte e più che volentieri parliamo con chi viene a fare delle domande addirittura vengono organizzate le giornate di porte aperte in fattoria ma come dicevo la maggior parte delle aziende non hanno neanche un cancello chi ha prodotti propri addirittura i negozi self service all'interno delle aziende dunque anche nell'interesse che chi si reca nell'azienda non trovi cose che li fa scappare poi quando ci sono delle situazioni dubbe vanno spiegate a me è già capitato di avere l'animale malato in stalla che era brutto da vedere e gli spieghi questo è un animale malato in cura dal veterinario è come noi quando siamo malati non abbiamo una bella cera anche qui c'è stato spiegato da qualcuno la condizione in cui era la situazione in cui era non è arrivato in tempo io ripeto le situazioni di fango non sono ottimali quelle che abbiamo visto non sono tanto un problema di protezione animali anche quello della vasca dell'acqua ma sono più di un altro dipartimento probabilmente di competenza come problemi ma non abbiamo visto degli animali che stavano male anche gli animali del mendrisiotto che effettivamente erano sporchi però chi capisce qualcosa di animali guardando l'atteggiamento di quegli animali non si può dire che erano animali che pativano non erano tenuti nel modo corretto no però è giusto dire che l'animale non è che era che pativa allora non so se sei d'accordo non sono tenuti nel modo corretto non pativano quindi va bene così quello che stai dicendo è va bene tutto così allora mettiamoci su una pietra non ho detto che va bene tutto così però protezione animali comprende tanto quello lì non va bene è più facile facciare le differenze l'animale magro ed è nutrito è facile da vedere però ci sono altri aspetti dell'animale che devono essere visionati e lì effettivamente noi personalmente come protezione animali quel caso abbiamo visto nel mendisiotto non lo conoscevamo quindi probabilmente è stato giustamente segnalato all'ufficio competente ecco e anche qui siamo noi i primi a dire segnalate direttamente possibilmente all'ufficio perché segnalando a noi comunque noi passiamo la segnalazione quindi possiamo evitare un passaggio o nei casi i dubbi prima di passare la segnalazione andiamo a controllare se realmente però nel mendisiotto effettivamente sì è vero gli animali non pativano però delle situazioni da mettere a posto lì c'era allora ci sono aspetta un momento voglio chiedere perché dopo vi voglio far vedere un ultimo filmato ma quando voi fate i controlli avvisate prima arrivate all'improvviso fate informare prima perché ci hanno detto di sì ci sono state delle polemiche anche a livello federale perché si diceva che venivano fatti troppi controlli senza senza avvisare e è uscito anche il Consiglio federale a dire che di per sé la maggioranza dei controlli deve essere fatta senza avvisare logicamente poi dipende cosa vuol dire senza avvisare perché se io vado a controllare solo la struttura per esempio stalla nuova controllo la struttura se vado a signor Pedrini a controllare la stalla nuova posso anche avvisare una settimana prima perché devo controllare la struttura non è che non è la gestione se devo controllare invece la gestione quindi la benessere anche lì cioè o viene fatto la mattina nel senso un'ora un'ora e mezza prima per fare in modo che il proprietario degli animali sia presente perché dopo c'è anche quel tanto lì cercare di rendere anche un attimino più gestibile anche il nostro lavoro ma voi avete l'autorità di entrare di fare tutto però in primis certo ma in primis come gli ispettori che controllano i ristoranti si contattano nessuno li può bloccare si contattano in primis i proprietari quindi la maggior parte li fate senza controlli di per sé senza no senza essere annunciati controlli senza annunciati allora io vi vorrei far vedere un ultimo servizio ma ancora un aspetto non è che forse si chiede troppo ai contadini perché allora perché se da una parte giustamente giustamente lei dice quella no però bisogna lasciarli lavorare a chi li difende gli animali no però quello che io non vorrei è che adesso dopo il servizio di questa sera ogni volta che si vedono degli animali con una pozza anche solo vicina si gridi al lupo al lupo perché quello che passa un po' stasera è quello la gente è capace di farle segnalazioni poi però le segnalazioni devono essere anche verificate eccetera forse un'ultima cosa stiamo parlando di ruminanti quindi le vacche le capre le pecore anche per una corretta ruminazione devono potersi sdraiare quindi l'animale si sdraia sull'asciutto quindi la lettiera asciutta è pulita è l'essenziale per gli animali ma lì abbiamo visto veramente la differenza dove ci sono magari uno o due animali che sono un attimino sporchi e dall'altra parte invece che sono praticamente tutti gli animali sporchi quindi vuol dire che la lettiera c'è poco ed è sporca ed è bagnata e soprattutto abbiamo visto che si può fare molto bene le capacità ci sono i contadini sono competenti possono fare molto bene quindi diciamo se si può fare si può anche chiedere di avere quella qualità nella gestione dell'azienda e sono sicuro che molti lo fanno bene come abbiamo detto anche nel caso presentato non sto parlando di quello del Mendrisiotto l'allevatore aveva invitato gli operatori a entrare a filmare i luoghi di ricovero in stalla non l'avete fatto no ma questo non mi risulta Igor ti ha invitato a entrare e non siamo entrati ci sono le immagini abbiamo filmato anche l'interno della stalla ci sono le immagini ci sono le immagini all'interno della stalla ma appunto non vi siete rifiutati di entrare no assolutamente ci sono le immagini nel servizio per cui allora dopo andiamo facciamo vedere le immagini c'erano filmate vabbè tanto io vi chiederei di restare qui perché adesso vogliamo farvi vedere un servizio sul quale in fondo voi potreste avere qualcosa da dire perché parliamo degli alimenti bio lei tra l'altro ha anche una fattoria biologica non la sua quindi vi propongo di guardare questo servizio e poi lo commentiamo intanto sentiamo il lancio c'è bio e bio dal piccolo agricoltore alla grande industria dalla verdura di stagione ai prodotti ultraprocessati l'etichetta è sempre quella ma la qualità allora quando si parla di bio si pensa alla fattoria dove si coltiva senza pesticidi giustamente nel rispetto della natura della biodiversità senza contare anche che spesso bio significa anche per tutti noi più sano ma è sempre davvero così guardate quello che può succedere questa volta non certo per colpa dei contadini allora il servizio è di Maya Chollet Sedei un paesino nel Canton Vaux questa è l'azienda di Urs Gfeller agricoltore bio da quasi tre decenni vende i suoi prodotti solo direttamente in fattoria e ciò gli permette di offrire un'ampia scelta abbiamo circa 270 tipi diversi di verdura distribuiti su tutto l'anno abbiamo anche circa 190 tipi diversi di frutta e molte bacche coltiviamo anche erbe piante medicinali e fiori commestibili nel settore biologico c'è una grande differenza tra piccole aziende agricole come questa e quelle che coltivano prodotti biologici per supermercati o per la trasformazione industriale tanti i vincoli pressione sui prezzi varietà definite dimensioni degli ortaggi standardizzate anche nel bio tutto deve adattarsi a macchine e procedure il bio è considerato sano e vende tra il 2019 e il 2020 le vendite sono cresciute del 20% per poi assestarsi su questo livello ma quello che si vende meglio non sono le verdure biologiche bensì questi prodotti biologici industriali le materie prime sono state coltivate in modo sostenibile e senza i pesticidi vietati nel bio ma poi sono ultra processate queste sono crocchette di rösti del supermercato crocchette di rösti cosa contiene questa confezione? patate 99% olio di semi di girasole proteine in polvere sale da cucina amido di riso latte in polvere amido di mais sciroppo di estratto di lievito spezie fecola di patate proteine del latte antiossidanti estratto di rosmarino una lista lunghissima si può mettere un'etichetta biologica su un prodotto che contiene così tante cose? non lo so è dagli anni 80 che l'industria alimentare usa il metodo dell'ultratrasformazione vengono aggiunti additivi aromi o conservanti i prodotti vengono anche modificati da processi industriali come il cracking l'ultrafiltrazione l'estrusione obiettivo distruggere chimicamente o meccanicamente un alimento e poi ricostituirlo il problema? così si riduce la qualità dell'alimento fibre vitamine antiossidanti si perdono secondo gli studi consumare prodotti ultratrasformati può portare diabete obesità e cancro e in questo senso conta poco se i prodotti ultratrasformati sono biologici o no 20 prodotti biologici acquistati al supermercato sono stati sottoposti all'istituto francese di ricerca agricola e nutrizionale a Clermont-Ferrand ad analizzarli uno specialista in ultratrasformazione bisogna guardare la lista degli ingredienti è il criterio decisivo per la qualità degli alimenti esistono diverse categorie per i prodotti ultratrasformati le sostanze aromatizzanti poi i cosiddetti additivi cosmetici per modificare gusto colore e consistenza la terza categoria è costituita da proteine lipidi carboidrati e fibre ultralavorate sono compresi anche amido zucchero invertito sciroppo di glucosio malto destrine zuccheri idrogenati e malto d'orzo e poi per i grassi ci sono gli oli raffinati o idrogenati non c'è l'obbligo di scrivere tutto questo sulla confezione si tratta di segreti commerciali ma sono processi tecnologici che hanno conseguenze drastiche su un alimento lo scompongono questo prodotto ad esempio viene consumato ogni mattina da bambini il problema è che dà l'impressione di essere sano cereali integrali coltivati biologicamente eppure rimane un prodotto ultratrasformato con molto zucchero che non dovrebbe mai essere somministrato ai bambini sciroppo di glucosio e aromi per alcuni prodotti la versione bio sembra addirittura essere più lavorata di quella convenzionale la maionese ad esempio a sinistra la versione tradizionale con olio di girasole e tuorlo d'uovo a destra la maionese biologica contiene tuorlo d'uovo lavorato e amido di mais il prosciutto biologico contiene un ingrediente che non è normalmente presente lo sciroppo di glucosio è presente in questo prosciutto al terzo posto tra gli ingredienti normalmente non c'è zucchero nei salumi ma perché la versione bio del prosciutto contiene dello zucchero forse per ridurre i costi un po' di sciroppo di glucosio anche se solo in minima parte è sufficiente a ridurre il costo complessivo perché si deve utilizzare una quantità minore di carne costosa per un determinato peso se gli ingredienti sono più di 5 è molto probabile che il prodotto sia ultra trasformato verdure per fare una buona minestra bio anche al supermercato abbiamo trovato una minestra bio minestra di verdure puoi dirmi cosa c'è dentro? panna farina di mais olio di girasole addensante è troppo per me questo è meglio non c'è dentro niente invece questa lista è troppo lunga un prodotto come questo così pesantemente snaturato è un vero peccato abbiamo tutti questi ingredienti di alta qualità coltivati in modo sostenibile ecologico promuovendo la biodiversità e alla fine tutto questo viene trasformato in un prodotto che non ha nulla a che fare con quelli originari non ha senso si pensa che basta iscrivere bio su un prodotto per farlo percepire come sano è una sorta di greenwashing questa non è più l'idea originale di biologico bisogna anche tenere conto del grado di lavorazione ma com'è possibile che le materie prime biologiche vengano distrutte a tal punto e che sulla confezione ci sia ancora l'etichetta bio succede perché i vari marchi biologici hanno deciso di accettare la maggior parte delle tecniche di lavorazione già utilizzate per i prodotti convenzionali difficilmente possiamo vendere prodotti lavorati completamente privi di additivi rispetto ai prodotti non biologici in cui sono consentiti fino a 350 additivi per i prodotti con la gem ne sono autorizzati solo 32 non contengono più ingredienti sono solo di più quelli che vengono dichiarati questo perché le clienti e i clienti richiedono la massima trasparenza sul contenuto un prodotto con la gem ha il 100% di bio al suo interno di conseguenza è anche salutare è sano per la natura per l'ambiente e anche per le persone è importante che anche l'agricoltura biologica si modernizzi ma in modo ragionevole all'inizio l'agricoltura biologica è partita da poche persone che avevano una visione diversa dell'agricoltura poi è diventata sempre più importante il mercato del biologico è cresciuto e ora si sta lentamente ponendo il problema della perdita di identità la produzione biologica in una piccola azienda agricola dove c'è diversità di culture e di produzione non ha più a che vedere con quello che oggi è il biologico anche se viene rappresentato così nella pubblicità delle grandi catene di distribuzione queste immagini della piccola fattoria idilliaca non sono più la realtà del bio perché i prodotti bio ultratrasformati escono da una fabbrica alimentare come qualsiasi altro prodotto trasformazione allora bene stavamo commentando già qui in studio il filmato abbiamo visto sono tutti prodotti che vengono considerati bio però in realtà sono ingredienti bio ma poi vengono ultralavorati dalle imprese e quindi insomma Pedrini fa specie non è anche una fattoria bio quindi produce garantendo tutto quello che è necessario quindi non ci sono pesticidi così e poi di fatto è un prodotto più sano da quel punto di vista ma poi ecco che cosa se ne può fare l'industria produce dei prodotti insani per il fatto che li ultralavora come reagisce? è sicuramente peccato una piccola precisazione prodotti fitosanitari prodotti fitosanitari va bene è sicuramente peccato perché dietro c'è un lavoro c'è una passione che porta a dei prodotti con una qualità ma questo penso che il tema lo possiamo estendere anche ai prodotti non biologici perché la ultralavorazione e tutte queste queste industrie veramente vanno a a far perdere tutto tutto il valore del nostro prodotto alla fine però c'è sempre la solita domanda dietro perché lo si fa perché c'è qualcuno che lo compra io lavoro nel mondo dei latticini io produco latte vendo formaggio ed inverno vendiamo anche la fondue noi vendiamo la fondue che è semplicemente formaggio grattugiato con dentro un po' di maizeno oggi come oggi la maggior parte della gente compra solo la fondue fix fertico già dentro tutto perché sembra che far sciogliere del formaggio con un po' di vino bianco sia troppo difficile io mi immagino che tra qualche anno apriremo il pacchetto della fondue e ci sono già le forchette con anche il pane questa è la realtà del consumatore colpisce il fatto perché uno si fa tirare da quel concetto da quella sigla bio quindi pensa di mangiare sano di mangiare bene perché è tutto biologico il prodotto che noi abbiamo prodotto che poi è arrivato lì dentro è sicuramente sano poi dalla vendita via non siamo più purtroppo noi responsabili ma Cialini cosa ne pensa? sì però riprendendo però onestamente siamo nel 2024 quindi anche il consumatore queste cose dovrebbe veramente sapere è chiaro che se noi prendiamo un prodotto un prodotto bio ho fatto esempio anche col suo collaboratore l'altro giorno le patatine fritte se noi prendiamo le patatine fritte bio se prendiamo l'olio che è bio ma se poi l'olio lo utilizziamo 45 volte ci mettiamo un unchio di sale eccetera eccetera lo lasciamo bruciare le patatine logicamente quel tanto lì più che un prodotto bio alla fine è qualcosa di tossico che ci fa malare quindi pensare un attimino cioè il prodotto andiamo a comprare i prodotti bio e poi li cuciniamo noi e basta allora io vorrei fare un'ultima battuta da difensore degli animali cosa vorrebbe dire ai cittadini ma devo dire che francamente prima mi stavo facendo una domanda e le stavo rispondendo sul fatto se i contadini hanno troppo da fare la cosa mi spaventa ma devo dirle di sì l'ha evidenziato un agricoltore questo purtroppo come protettore degli animali mi fa paura perché non si vorrebbe che il contadino per poter sopravvivere deve fare parecchi lavori e questi parecchi lavori vadano a discapito della qualità e della salute degli animali quindi la cosa secondo me è da veramente monitorare bene e da trovare i giusti equilibri perché secondo me stiamo migliorando sulla tenuta degli animali e gli agricoltori i contadini scusami stanno veramente facendo dei passi avanti le giovani generazioni io trovo delle giovani generazioni ticinesi che stanno cambiando completamente il modo di allevare però attenzione a non metterli sotto pressione perché altrimenti come protezione animali dovremmo intervenire ancora più spesso il problema c'è anche un problema di reddito questo che impone di dover c'è tutto il grande tema anche dei prezzi del latte che chiama in causa anche noi consumatori onestamente il cerchio qui un po' si chiude dovremmo riaprirlo ci sarebbe da fare una seconda puntata non è detto che non vi inviteremo a farla tra non molto vi ringrazio davvero tantissimo per aver accettato di venire qui di confrontarsi questo è anche un po' il nostro spirito lo facciamo sempre nel tentativo di migliorare di far capire di confrontarsi e di aiutare anche i cittadini a capire e anche gli agricoltori e i contadini a migliorarsi quando è possibile anche grazie a trasmissioni come queste semplici ma dirette ci mancheremo va bene grazie mille noi chiudiamo qui ci vediamo venerdì prossimo alla fiera delle lauree facili di questo parleremo venerdì prossimo basta qualche click una manciata di corsi online addirittura a volte nemmeno quelli e una cospicua somma di denaro e beh e ci si può laureare sembra incredibile questo succede in Svizzera e allora beh ne abbiamo approfittato ci siamo laureati anche noi vi raccontiamo quello che succede una realtà davvero incredibile ci vediamo venerdì prossimo grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti